Grazie, ciao, belli. Sono ancora io, di voi dove si riconosce, ma questa volta grazie all'evento musicale, all'energia e anche alla scuola zoon, perché qui vicino, qui vicino, di là, stanno lavorando, lavoratori di scuola zoon, ci sono venuti pure a trovare un certo secondo della scuola zoon di Pantella, le Pantella, e poi spero che, io faccio questo video per voi, perché ogni ora scuola, questo video, questo video si chiama, questo video si chiama, che ogni ora scuola, non vorrei più a farlo. Grazie a tutti. 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 Allora potrei anche farvi vedere, anzi, questo video è anche finito. E' veramente finito? Vabbè, questo video ti sicuro si. Con Diego Minuto 22, i Pantellas, la Scuola Zoo, io vi saluto e spero che a voi vi piacerà questo grandissimo e bellissimo video. Ci vediamo la prossima volta con Diego Minuto 22, io odio la scuola.